Lisbona, capitale del Portogallo, sorge sulla costa atlantica ed è caratterizzata da un territorio collinare. Sulla collina più alta del centro storico della città visitiamo il Castello di San Giorgio, che aiutò Lisbona ad impedire le incursioni moresche alla fine del XII secolo. L'area del castello è di forma quadrata e comprende alcune costruzioni, giardini e una larga piazza con delle terrazze che permettono di godere di una splendida vista sulla città di Lisbona. Situato a Belém, sulla riva del fiume Tago, troviamo il Monumento alle Scoperte, realizzato nel 1960 a 500 anni dalla morte di Enrico il Navigatore. Fu edificato per celebrare l'era delle scoperte realizzate dai navigatori portoghesi fra il XV e il XVI secolo. Spettacolare la Trasado Commerzio, ovvero Piazza del Commercio, completamente rimodellata dopo il terremoto di Lisbona del 1755. Spettacolare la Trasado Comandinavico. Grazie a tutti